Saldare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro e nel contempo difendere la tradizione artigiana del nostro territorio. Sono solo due degli obiettivi del nuovo centro per lo sviluppo dell'artigianato artistico che nascerà all'interno del liceo artistico di Arezzo grazie alla partnership con la provincia e il finanziamento dell'ente cassa di risparmio di Firenze. Una realtà unica nel suo genere anche a livello nazionale e che ha già ricevuto il plauso dell'ACRI, l'Associazione Nazionale delle Fondazioni di Origine Bancaria. Ci siamo trovati insieme sull'idea di valorizzare l'artigianato artistico costituendo un polo specifico delle competenze e l'idea di farlo ovviamente all'interno di un istituto scolastico che è il nostro fiore all'occhiello per tutto quello che è il design. Riteniamo che l'artigianato faccia parte di una storia gloriosa che ancora può avere un futuro. Cioè riteniamo anche pensando al turismo che è un'altra parte importante del reddito nazionale che la produzione di oggetti di grande qualità sia una possibilità per il nostro paese. Il progetto ha portato alla nascita di quattro corsi gratuiti. Uno sull'arte dello smalto a fuoco tenuto dalla professoressa Maria Ministeri, un altro sul costume teatrale per la danza tenuto dall'imprenditore e stilista Santi Rinciari, un terzo su artigianato artistico orafo e metalli tenuto dal maestro artigiano Alano Mafucci e l'ultimo sulla modellistica artigianale per la moda tenuto dall'imprenditrice e stilista Daniela Guanetto. Abbiamo dato la possibilità di utilizzare le nostre strutture e abbiamo anche organizzato a livello tecnico questi corsi per fare in modo che certe tecniche tipo la tiratura a martello, tanto per fare un esempio legato a un nostro docente maestro artigiano Alano Mafucci, sarà un corso particolare, ecco, vogliamo creare le condizioni perché tutto questo non si perde.